Faccio parte della compagnia di Gropparello Alcumeri, una compagnia dialettale al femminile, siamo tre donne e una suggeritrice anch'essa donna, siamo appunto io Susi Stragliati, Marchioni Claudia, Marchioni Piera e Silvana Sartori. Le comedie fatte e proposte fino ad ora le ho scritte io, quindi sono commedie tutte fatte in casa e noi stesse facciamo anche da regia alle nostre commedie. La nostra ultima commedia, Maldamur, parla di tre amiche, Bernarda, Santina e Maria, che si raccontano qualche pettegolezzo, qualche segreto e alla fine la conclusione è una sola. Il Maldamur è una malattia molto particolare ma molto comune. La smassiamo più c'è, però se io tu dici, magari, magari, infatti, negli allucinazioni che me, magari, avrò anche il mio campanello, che avevi fatto le morte anche a lui, no? Grazie a tutti. Di solito noi recitiamo e quando abbiamo un incasso, che sia piccolo o grande o anche offerta, devolviamo tutto in beneficenza e quindi così cerchiamo di fare il nostro piccolo qualcosa di buono.